Come possiamo riassumere la credenza nella Trinità? Il Dio Trino è uno per quanto riguarda la sua natura divina e tre per le persone divine. Cosa si intende con natura e cosa esattamente con persona? Natura si riferisce a cos'è qualcosa. Michele, per esempio, è un essere umano, è un bipede razionale. Alessandra è anche lei umana, una bipede razionale. Michele e Alessandra hanno la stessa natura umana, ma non la condividono, anche se ognuno è un esempio di questa natura. Sono individui, due distinte persone. Per semplificare potremmo dire, la natura descrive quello che sono, mentre la persona descrive chi sono come individuo. Ora, in Dio c'è una natura divina e tre persone. Comunque non è come il caso degli umani che abbiamo appena fatto. In Dio non ci sono tre individui, tre dei, che sono tutti esempio della natura divina. Piuttosto abbiamo le tre persone della unica natura divina. Ma cosa significa questo? Padre, Figlio e Spirito Santo sono Dio. Tutti e tre insieme sono un unico essere divino, la Santissima Trinità. Allo stesso tempo, il Padre non è il Figlio. Il Figlio non è lo Spirito. E lo Spirito non è il Padre. Le loro personalità sono veramente distinte. La base di questa distinzione tra le persone divine è come si relazionano tra loro. Dio Padre è la fonte. Il Figlio è l'unigenito del Padre a sua perfetta immagine. E lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio. Potremmo dire anche che lo Spirito procede dal Padre per mezzo del Figlio. Quello che rende diverse le persone divine è quindi solamente la relazione tra loro. La generazione del Figlio e la processione dello Spirito Santo non sono iniziate tanto, tanto tempo fa, ma ci sono dall'eternità. Possiamo dire che Dio è immutabile, ma in modo dinamico, non statico. Questo schema sintetizza gli aspetti centrali della fede cristiana nella Trinità. Ma non confondere Dio con un triangolo con cerchi e frecce.